Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi parliamo del Femmour, la minigun Incarnon. Iniziamo! Secondo round per queste armi Incarnon, abbiamo parlato della Lightroom, è il momento di parlare del Femmour, il nuovo fucile di precisione che poi diventa una minigun ed è assolutamente devastante. Per chi ha già visto il video sulla Lightroom, probabilmente alcuni passaggi saranno simili o addirittura uguali, ma visto che si tratta di armi nuove non solo come data di uscita ma anche come tipologia, beh, ripetita Juvent, in ogni caso se non avete visto il video della Lightroom vi metto il link in descrizione. E a proposito, consigli per gli acquisti, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Per ottenere questa arma dovremmo aver completato la quest degli Angeli della Zariman e avere accesso quindi a Cavalero della fazione degli Allfast. Se non l'avete ancora conclusa sappiate che tutto ciò che seguirà è pieno di spoiler. Direi che possiamo proseguire. Possiamo ottenere lo schema del Femmor da Cavalero al secondo grado degli Allfast, quindi testimone, per 6.000 punti di reputazione. Al contrario della Lightroom questa ci richiederà un po' di lavoro. In primo luogo dovremo arrivare al secondo grado. E non basta un bel sorriso, ci vogliono 15.000 punti di reputazione. Poi ce ne vogliono altri 6.000 per acquistare lo schema. E infine ci vogliono 15 Void Plum Remigante, 20 Void Plum Calamo e 15 Lanterne Entrati. Si tratta di risorse nuove, uscite con l'aggiornamento degli Angeli della Zariman e come sempre, se volete qualche dritta in più per sapere come ottenerle, beh, vi metto in descrizione il link del video che ho fatto. Approfondiamo la modalità di sparo. Nella sua modalità standard il fuoco di quest'arma è simile al semi-automatico dello Zenith. Stesso ratio di fuoco, ricarica un po' più lenta, un terzo del caricatore e naturalmente non abbiamo quello splendido attraversamento infinito che contraddistingue lo Zenith. In ogni caso abbiamo 3 metri di attraversamento, che è comunque ottimo. Il colpo infligge danno da taglio e da perforazione, dove il primo doppia abbondantemente il secondo. Come sempre, per attivare la modalità Incarnon, abbiamo una sfida da superare, uccidere 100 nemici. Una volta conclusa e attivato il perk da cavalero, possiamo scoprire il vero potenziale di questa arma, la modalità Incarnon. Al centro del mirino abbiamo una barra simile a quelle che vediamo per il Trumna o per il Sepulcrum o per la Lightroom, se l'abbiamo già costruita. Effettuando colpi anche non consecutivi alla testa dei nemici, andiamo a caricarla. Consiglio un colore di energia abbastanza chiaro, così lo vediamo subito a che punto stiamo della carica. La carica non si basa esattamente sui colpi alla testa, ma anche sul multishot. Ogni colpo alla testa aggiunge 34 cariche e con 12 colpi abbiamo riempito il caricatore, quindi naturalmente più multishot più in fretta raggiungiamo il massimale. In aggiunta, come suggerito da Nightmare Frame, se avete Magus Lockdown, riuscite a fare i colpi a testa con una facilità davvero imbarazzante e senza bisogno di usare trucchi strani o di essere bravi a ammirare. In ogni caso, non è necessario che la carica sia completa per attivare l'Incarnon. Se premiamo il tasto del fuoco alternativo, su PC il centrale del mouse, l'arma si trasforma con una breve animazione e abbiamo a disposizione un Gatling che personalmente ho apprezzato davvero parecchio. L'animazione dura esattamente come la ricarica, quindi 2,8 secondi. È un po' tantino, quindi possiamo o velocizzare la procedura, utilizzando mod di ricarica o gli Arcane, che funzionano anche sull'animazione, o sfruttare qualche piccolo gimmick come rotolare o passare in operatore. In ogni caso, con la modalità Incarnon, cambia il tipo di danno. Passiamo da taglio-perforazione a taglio-radiazione, sempre e comunque con priorità al taglio. E cambia anche la tipologia di sparo, che passa da semi-automatico ad automatico. Piccola nota, diventa una minigana al contrario. Solitamente per le armi come il Tenoro o il Gorgon, ad esempio, siamo abituati ad un ratio di fuoco che aumenta più teniamo premuto lo sparo. Fino al punto in cui poi si stabilizza. Qui è l'esatto opposto. I primi colpi saranno rapidi e poi caleranno sempre di più fino a stabilizzarsi. In margine per evitare di passare la giornata col dito sul mouse. Una peculiarità della modalità Incarnon è che non funziona con un caricatore, ma più con una specie di batteria, che è quella barra che vediamo sotto il mirino, che si scaricherà man mano che spariamo. Mi ripeterò, ma personalmente continuo a non apprezzare troppo questa meccanica, anche se ormai ci sto prendendo l'occhio. Se spariamo una raffica non vedremo la barra calare, ma la vedremo diventare più alta e solo quando ci fermiamo tutto il blocco alto sparerà di botto. Il caricatore Incarnon ha circa 400 colpi, ma anche se si tratta di un bel caricatore, consiglio di non sprecarli in giro. Perché? Principalmente perché l'arma è devastante anche solo riuscendo a mettere qualche colpo a segno su un nemico, nonostante il livello. Una volta finita la carica Incarnon, o disattivandola manualmente con il tasto centrale, l'arma tornerà nuovamente come prima. Ma importante, se la spegnete prima della fine della carica, in ogni caso dovrete ricominciare da capo la carica, non verrà mantenuta la carica residua. Ma andiamo ad approfondire il potere Incarnon e le 5 sfide con le conseguenti abilità che abbiamo a disposizione. La prima sfida è abbattere 100 nemici. Equipaggiate l'arma e fate una missione, direi che il resto venga da sé. Completata la sfida, dobbiamo tornare sulla Crisalit, parlare con Cavalero, aprire il nu, evolvi le armi Incarnon e potremo attivare il perk e quindi la modalità Incarnon dell'arma. La seconda sfida richiede di abbattere 8 Eximus con un colpo trasmutato del nostro Femmor. In Santuario Elite ci sono tutti gli Eximus che ci servono. Se poi avete la fortuna di trovare un'incursione con Roccaforta Eximus, beh, anche meglio. In ogni caso, a questo punto possiamo scegliere tra 3 perk diversi. Tranquilli, non è una scelta definitiva, possiamo sempre modificarla in un secondo momento. Ma ci toccherà ritornare da Cavalero. In questo caso i perk sono Void Guidance, 50% di precisione e 50% di rinculo in meno mentre miriamo Rapid Wrath, 20% di rato di fuoco in più, Swift Deliverance, 80% di velocità del proiettile. La precisione dell'arma non è un gran problema, ma il rinculo può essere fastidioso. Inoltre, per usare la mod Stabilizer, dobbiamo ripolarizzare l'Eximus. Quindi, sì, questo perk può essere una buona idea. Rapid Wrath, Ratio di Fuoco, di cosa parliamo? Il Ratio di Fuoco è sempre un vantaggio all'interno di Warframe. Vuol dire che mettiamo più colpi a segno in meno tempo, quindi facciamo più danno. Per quanto riguarda Swift Deliverance, in questo caso si può evitare. Anche perché, se appunto lasciate la polarizzazione dell'Exilus esattamente com'è, Terminal Velocity ci darà il 60%, che non è l'80%, ma è comunque buono. In generale, questo selettore di perk è veramente a gusto personale e varia in base al gameplay di ognuno. Io, personalmente, mi trovo più comodo col primo perk, ma è una questione di punti di vista. La terza sfida richiederà di colpire alla testa un Angelo del Void con 8 colpi senza ricaricare. Consiglio, non stermini una difesa mobile, così da poter fare tutto con molta calma, e magari un Warframe invisibile, così da agire ancora più indisturbati. Ultimo dettaglio, non dovete né abbatterlo né fare colpi consecutivi, quindi è molto più semplice di quanto non sembri. In questo caso i tre perk influenzano principalmente la modalità non incarnon dell'arma. Retribution Vessel, 50% di capienza del caricatore in più. Ready Retailation, quando ricarichiamo alla fine del caricatore abbiamo il 100% di velocità di ricarica per 6 secondi. E Executioner Fortune, sui colpi alla testa, sull'uccisione sui colpi alla testa, il 20% di probabilità di ricarica istantanea. In tutta onestà, la modalità non incarnon dell'arma non è così efficace e devastante come quella incarnon, quindi credo che possiamo muoverci serenamente sul primo perk e passare al prossimo grado. Al massimo, se proprio avete voglia di giocare a Sniper Elite, potete optare per l'ultimo perk. Quest'arma ha un'inaspettata predisposizione per chi vuole giocare solo di colpi alla testa, anche se non credo che Warframe sia il gioco più adatto. La quarta sfida richiede di chiudere 12 fratture nella cascata Void. Non tutte nella stessa missione, quindi se volete fare le taglie va bene lo stesso. I tre perk sono Survivor Edge, 10% di probabilità di critico, 10% di probabilità di effetto. Incarnon Efficiency, i colpi alla testa caricano la modalità incarnon del 50% più veloce. Infine Elemental Access, 20% di probabilità effetto in più, 10% di probabilità critico in meno. In questo caso, la strada della build per quest'arma è il non critico, quindi possiamo già saltare il primo perk. Il terzo, in tutta onestà, non va a diminuire di così tanto i valori da essere significativo. A questo punto, visto che cercheremo di restare in Incarnon quanto più possibile, tanto vale scegliere Incarnon Efficiency e dimezzare il numero dei colpi. Sulla carta passiamo da 16 a 8, ma considerato il multishot vi assicuro che ci vorrà davvero poco. L'ultima sfida è tanto banale quanto complessa. Dobbiamo avere tutte e tre le armi Incarnon equipaggiate e farci una missione. In compenso, l'ultimo grado dei perk è sempre più gustoso. Devouring Attrition, 50% di probabilità che il danno di un colpo non critico sia aumentato del 2000%, 2000%. Splitful Defilement, i nemici che sono affetti da meno di tre effetti, scusate il gioco di parole, riceveranno il 100% di danno critico in più. Infine l'Ingering Judgment. Su due colpi alla testa in due secondi abbiamo il 50% di danno aggiuntivo sui colpi alla testa per 8 secondi. La scelta più ovvia è chiaramente la prima, contando che, per quanto riguarda Spiteful Defilement, due effetti li ha già l'arma senza mod, quindi è quasi impossibile farlo bloccare. Inoltre avremmo sicuramente Galvanize Shot, quindi più effetti vuol dire più danno. E infine, tutta questa fatica per il 100% di danno critico? Decisamente no. Il terzo perk vale lo stesso discorso fatto per Executioner Fortune. Warframe non è un gioco da cecchini. In più, due secondi sono pochi, otto secondi sono pochi, il 50% è poco. Quindi non resta che il primo e preparatevi a vedere una build parecchio strana, visto che dovremmo togliere tre mod che, fino a ieri, fino a tutte le altre armi che abbiamo moddato fino ad oggi, erano dei must. Parlando di pro e contro, nei pro mettiamo il danno di base è perforazione e taglio, con priorità taglio nello sparo normale, ed è danno di radiazione e taglio, con priorità taglio, in sparo incarnon. In pratica, ovunque spariamo, i nemici muoiono da soli. Anche in questo caso voglio mettere l'incarnon nei pro. La modalità alternativa di sparo è favolosa. Si carica in un attimo, se la moddiamo come si deve, e è praticamente infinita. Veramente, veramente gustoso. Il ratio dell'incarnon è favoloso, meglio di qualunque altra minigun in game, e inoltre questa meccanica della minigun al contrario, quindi della diminuzione del ratio di fuoco, beh, non mi dispiace per nulla. Il caricatore incarnon, lo dicevo già prima, è infinito. E modato a dovere, con un paio di colpi alla testa, siamo subito pronti a partire. C'è una doppia valenza in questa arma. È un'arma per spazzare via stanze intere, ma può anche essere usata come arma da cechinaggio. Quindi, beh, divertente in entrambe le situazioni e vale la pena di essere provati in entrambe le situazioni. I tre metri di attraversamento compensano la mancanza di AOE, sappiamo essere un must per le armi meta, e se siamo bravi e riusciamo a mettere i nemici tutti nello stesso corridoio, beh, li eliminiamo senza alcun problema. Non so se metterlo tra i pro, ma il fatto di avere una strada principale con i perk da seguire semplifica di molto il lavoro e il testing, visto che ogni volta ci tocca tornare da cavalero per poterli cambiare. Nei contro, velocità di ricarica non è efficientissima, anche se in realtà passeremo poco tempo non in incarnone, quindi non la sentiremo così tanto. Per dovere di cronaca vi dico che il danno effettivo dell'incarnon non è altissimo. Certo, tra i perk e il taglio è più che compensato, ma va detto che ci sono armi con raw damage parecchio più alte. Le forme sono il vero e unico problema di quest'arma. Non tanto per la quantità, 5, 6, al massimo 7, ma per il fatto che non avendo le classiche mod da usare, ci possiamo trovare con slot che non sono polarizzati nel modo corretto, e ci tocca di essere un po' più fantasiosi del necessario con la build. L'exilus è da sbloccare. Che sia lethal momentum, che sia steady hand, comunque una mod di utility su quest'arma ci sta bene, anche se possiamo compensare quei perk. La maestria per usare quest'arma è 14, che poi è il male minore perché in realtà la vera difficoltà, per cui dobbiamo essere a un livello avanzato e dobbiamo aver fatto tutte quante le quest, quindi sì, sicuramente non un'arma in tri-level. Infine ovviamente, come sempre, è un'arma nuova, quindi la presisposizione Riven è bassissima. 0.5, un solo pallino, che non vuol dire che sono proprio da buttare via le Riven di questa arma, è che per trovarne una davvero buona o abbiamo parecchia fortuna o siamo parecchio ricchi. Arriviamo a parlare delle build. Abbiamo due build a disposizione, una di danno e ignoranza e una basata sul taglio, quindi un po' più di fino. Per quella da taglio, Serration. Serration è sempre un must have, ma a livelli più alti potete sfruttare meglio, piuttosto che Serration, la combo di Prime and Bain of, la fazione che andate a affrontare, e Primary Merciless o Primary Deadhead, in questo caso comunque meglio Primary Merciless. È una rottura di scatole, lo so, Primary Bain of va sostituita ogni volta che affrontiamo una fazione diversa, ma a livello puramente matematico il danno è maggiore. Poi, Split Chamber, se ce l'abbiamo, Galvanize Chamber, che è anche meglio, e Galvanize Aptitude, che aumenta il danno in base agli effetti che infliggiamo. Queste sono mod che, secondo me, non vanno rimosse dalla build. Funged Fusillade. So che non me la volete usare molto spesso, ma in questo caso ci sta proprio bene. 120% di danno in più su una build da taglio, su un'arma con delle statistiche di taglio veramente alte, è assolutamente ottima. Dopodiché, possiamo mettere Virale, Rhyme Rounds, Malenian Force, o Corrosivo, sostituendo il ghiaccio con l'elettrico. Unica informazione importante, mettetele non maxate. Perché? Perché così restano basse come valore e continuiamo a far proccare il taglio come danno principale. A questo punto gli slot opzionali sono parecchi. Perché? Semplicemente perché tutto ciò che è critico, questa volta non ci interessa. Niente critical delay, niente point strike, niente vital sense, è incredibile ma vero, niente hunter munition, che è qualcosa di assolutamente mai visto su una build per un'arma primaria. E quindi che cosa andiamo a mettere? Beh, prime scelte, facili, semplici. Vigilante armament, sparo multiplo. Anche se il 20% di probabilità di potenziare i colpi critici, ah, è un fastidio. È veramente un fastidio. Ovviamente se mettiamo questa cerchiamo di non mettere le altre mod del set vigilante, perché se no aumentiamo ancora di più il critico e quindi abbiamo meno possibilità di fare il 2000% di danni. Però è una scelta. Possiamo andare a migliorare la cadenza di tiro. Abbiamo varie scuole. Primal Shred, 55% di cadenza di tiro, 2.2 di attraversamento. Speed Trigger, 60% di cadenza di tiro. Violet Sereration, 90% di cadenza di tiro e 15% di danno in meno. Ovviamente il danno, come dico sempre, è da applicare al primo conteggio, prima ancora di mettere le mod. Quindi in realtà 15% di danno in meno non danno così fastidio. Ma mi sento di consigliare Pre-Match Red. Se ce l'avete è molto meglio perché aumenta la cadenza di tiro di un po', ovviamente è la minore delle tre, ma va a aumentare anche l'attraversamento e ci porta a praticamente 5 metri e più. Veramente, veramente gustoso, veramente consigliato. Altra mod che potremmo utilizzare, Hammer Shot. Il danno critico ovviamente non serve a niente. È chiaro, è completamente inutile perché non vogliamo, ancora una volta, far proccare il critico. Ma l'80% di probabilità di effetto va a compensare le nostre due mod completamente vuote e va ad aumentare ancora di più i proc da taglio. Quindi sì, decisamente una buona idea. Per quanto riguarda invece una statistica che di solito non andiamo a guardare, ma che questa volta vale la pena di essere visto, Prime Head Fast Stand, velocità di ricarica. E già, perché, perché anche la trasformazione in Incarno è regolata dalla velocità di ricarica. Quindi mettere un Prime Head Fast Stand può non essere una scelta così stupida. Migliora di molto il nostro quality of life a livello di gameplay. Sì, può essere una buona idea. Per quanto riguarda l'Exilus, Terminal Velocity o Stabilizer? Dipende dalla polarizzazione, se la vogliamo cambiare o meno, e dipende dal perk che abbiamo scelto in base a quello che scegliamo, uno o l'altro. Per quanto riguarda gli Arcane, Primary Merciless è il nostro must have per tutte le build da taglio. Perché? Perché Dead Head semplicemente funziona se uccidiamo il nemico col colpo alla testa di precisione. E non lo faremo, lo uccideranno i proc da taglio. Quindi Primary Merciless. Dopo l'uccisione, 30% danno 4 secondi con 12 stack. Velocità di ricarica, ottimo per quest'arma. Munizioni massime, ottimo per quest'arma. Le altre non penso valgano la pena neanche di essere guardate con attenzione. Dead Head, se volete usarla come primer. Perché? Ci sono primer migliori. Magari se volete usare principalmente la colpo a corpo e questa la usate solo in particolari circostanze. Sì, in calcio d'angolo. Fractalized Reset, vabbè, all'attivazione di nobilità, 240% di velocità di ricarica. Sì, ma non ci interessa perché usiamo la modalità Incarnon. Per quanto riguarda la build invece di puro danno. Sempre Galvanized Chamber, sempre Primed Bain of, sempre Galvanized Aptitude. Primed Shred ormai ha trovato il suo posto e non si schioda da qui. Andiamo a mettere semplicemente dei danni puri sulla nostra arma. Quindi tossina e elettrico per fare il corrosivo. Sì, perché mi porto il Panzer Vulpafilia. E fuoco. Così andiamo a diminuire un po' l'armatura. L'ultimo slot, personalmente, apprezzo tanta velocità. Avrei voluto metterci Vile Acceleration. Ma le polarizzazioni non me lo permettono. Quindi Speed Trigger andrà più che bene. Per quanto riguarda gli Arcane, visto la tipologia di arma, vista la tipologia di danni, possiamo usare un Death Head. Questa volta dovremmo riuscire a ucciderli con i nostri colpi e non con il proc da taglio. E vi assicuro che con questa build riusciamo a distruggere i nemici di Steel Path fino a livello 200. Senza alcuna difficoltà. Quindi, il Femmour. Veramente favoloso. Ragazzi, usare quest'arma mi dà tantissima soddisfazione. È, soprattutto nella modalità di Raw Damage, pura ignoranza. Mi sento come in un film degli anni Ottanta d'azione, come se fossi Schwarzenegger o Stallone con un fucile mitragliatore in mano. Sì, è veramente soddisfacente. Anche perché, senza troppa fatica e senza troppo impegno, facciamo una build molto, molto semplice che distrugge i nemici fino a livello 200. Assolutamente da provare. Fidatevi di me. Provate questa arma. E poi scrivetemi nei commenti come vi trovate. Spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto e che contenga informazioni utili e interessanti. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord. Ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Ciao!